Tutto il sangue ha una storia. Tutto il sangue ha una composizione particolare. Quindi non mi sento la stessa cosa. Tutto il sangue ha diverse emozioni. È come se io levo, levo, levo e levo cosa mi ha detto. Il sangue ha 74 punti. Ancora la gioca di domani. Mannaggia. Octar 101. Oh my god. Non mi sono signore. Il primo momento che ho fatto, era freddo, ma ho pensato, ti preparo e quando io tolgo e poi... era fantastico! Anche ora quando io tolgo, cambia color. Questo mi sorprende sempre. Ma non è solo per il dorso, è come una terapia. Se tu tolgo, non lo so, senti. Per me è il migliore di dire tutto. perché la fantasia non è limitata. Se hai una fantasia, puoi creare la fantasia, puoi aprire una finestra per un'altra persona e è il meglio di comunicare senza parole. Non resta la stessa, cambia. Anche oggi non è la stessa. La vita è vita, è materiale, e si trasforma. Ci sono molte cose positive che puoi fare con il centro. Io sono amato con il centro. Hai una canzone? Novo Amèrica. Inizio. Era sua terra. Agora, gente. Mais terra do que nunca. Inizio. Inizio. Dovino. Grazie a tutti